ciao ragazzi oggi una ricetta davvero speciale avete mai assaggiato la mammillata di caffè oggi vi faccio vedere come si fa la mammillata di caffè a casa la confettura di caffè semplicissimo ok today I want to show you how to make a coffee jam at home very simple ok cominciamo dentro una pentola in a pot like this prendiamo la panna we get the whipping cream we have our sugar lo zucchero e il nostro caffè ok cominciamo velocissimo andiamo la panna lo zucchero the sugar e il nostro caffè the coffee mischiamo bene insieme we mix it very well together andiamo a metterlo sul gas con un fuo colento per 10 minuti dopo 10 minuti aumentiamo la temperatura un po finchè la composta diventa abbastanza densa ok we have to put it on the gas on a low heat for 10 minutes ok after 10 minutes we have to increase the heat and cook it again until it becomes a bit thicker ok let's go to the gas fuoco lento ok adesso continuiamo a mischiali ogni tanto per evitare che si attacchi ok we continue mix mixing it slowly to avoid it sticking to the pot ok guardate la consistenza ok e dopo che l'hai torta dal fuoco dobbiamo lasciarla riposare per un paio di ore per farla raffreddare bene ok when you remove it from the from the heat we have to leave it for some hours to allow to cool down very well ok guardate come è venuta la nostra confettura a caffè mamilata di caffè ok guardate 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 qua ragazzi è un spettacolo guardate poi prendere un contenitore in vetro ok come questo andiamo a metterlo via guardate che bellezza ecco qua la nostra mamilata caffè può stare in frigo per un po di giorno perché più che si raffredda più che diventa ancora dentro ok you can store it in the fridge ok and you keep it in the fridge for some days so when it gets colder it gets thicker ok mamilata di caffè assaggiamo fatte di scottata ragazzi è una delizia ok provate la casa per gli amanti di caffè ma vi avete ok quando le assagirete per la prima volta non vi smetterete più non vi smetterai più non vi smetterai più di farlo di continuare in casa ok remember to try it at home and I warn you for the when you try it for the first time you will never stop making it at home ok it's very delicious and simple you will love it and is for coffee lovers ok